No, è finito là. Ha passato là. Non è finito là. Non è finito là. Non è finito là. Bene. Non è finito là. Incidente nel pomeriggio di mercoledì 18 gennaio intorno alle 14 in via Quinzena al km 4.7 a Borgiallo al confine con Collaretto Castelnuovo. Un Audi A4 fuori controllo uscito di strada precipitando giù dal burrone che costeggia la carreggiata. Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco di Castellamonte, la croce bianca del Canavese, le di soccorso del 118 e i carabinieri di Quornier e Vrea. L'uomo alla guida, su un sessantenne di rivarolo canavese, dopo le prime cure è stato trasportato in ambulanza all'ospedale di Vrea. Non è in pericolo di vita. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri. Adesso ti dico, Edo. Adesso ti dico, Edo. 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 Edo.